in questa lezione cercherò di illustrarvi rapidamente il mondo dell'antropologia in particolare vedremo qual è l'origine del termine antropologia quali sono le due branche principali di tale disciplina ovvero l'antropologia fisica e l'antropologia culturale cosa differenzia oggi l'antropologia ad altre discipline come la filosofia e la sociologia cosa o meglio chi studia l'antropologo e perché è importante oggi tanto nello scacchiere delle discipline accademiche quanto nella vita di tutti i giorni questa disciplina iniziamo quindi col chiarire l'origine del termine antropologia antropologia deriva da due lemmi greci antropos che significa uomo può essere umano e logos che significa discorso pensiero parola letteralmente quindi antropologia vuol dire discorso intorno all'uomo la definizione che normalmente viene data di tale disciplina è quella di scienza dell'uomo considerato sia come soggetto o individuo sia in aggregati comunità situazioni l'antropologia viene poi spesso suddivisa in due branche principali l'antropologia fisica che ha quella branca che analizza le strutture i processi comportamentali dal punto di vista biologico indaga cioè i fattori legati alla natura umana dal punto di vista fisico chimico e biologico e l'antropologia culturale ovvero quella branca che studia la produzione di tutto ciò che è considerato cultura sia i processi intellettuali e simbolici quindi come ad esempio la religione l'arte e il linguaggio sia i supporti materiali come gli artefatti fetici ornamenti vestiti e tutto ciò che ha a vedere con la parte materiale della cultura ma nel concreto ci si potrebbe chiedere cosa caratterizza l'antropologia contemporanea rispetto ad altre discipline come ad esempio la filosofia o la sociologia rendendola unica cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza l'osservazione partecipante è ciò che normalmente viene indicato come la caratteristica peculiare dell'antropologia l'antropologo infatti al contrario dei filosofi o dei sociologi vive spesso per lunghi periodi all'interno della comunità studiata una comunità spesso sia geograficamente che culturalmente molto distante da quella di provenienza l'antropologo quindi ascolta parla e soprattutto impara l'antropologo osserva è il campo infatti a parlare l'antropologia si fa quindi interprete di culture ascoltate direttamente e non studiate a tavolino lascia sempre aperto lo spazio all'ascolto quindi evitando a priorismi o pregiudizi rispetto alla filosofia in particolare potremmo riprendere la definizione che di antropologia dati mingled ovvero di antropology is philosophy with inside the people quindi l'antropologia è la filosofia con al suo interno le persone l'antropologia infatti non studia l'altro ma studia con l'altro e l'altro è parte fondamentale di questo studio non è solamente un oggetto che viene analizzato rispetto alla sociologia invece l'antropologia potremmo dire che studia gruppi umani non per cercare schemi comuni o universali ma per indagare le varie culture l'antropologia non etichetta l'altro attraverso categorie prestabilite ma lo ascolta per raccontarlo l'antropologia richiede poi ricerche di tipo qualitativo non quantitativo non importa quindi tanto la quantità di materiale raccolto quanto piuttosto la qualità di questo materiale l'oggetto di studio dell'antropologia culturale è quindi come avrete capito vastissimo nel tempo essa ha perciò preso varie diramazioni più specifiche per fare alcuni esempi l'antropologia della violenza che studia le varie forme di violenza che vengono a crearsi all'interno di una cultura sia essa violenza strutturale o violenza simbolica l'antropologia delle religioni che studia invece le varie forme che la religione viene a prendere all'interno delle culture umane l'antropologia della natura che ad esempio cerca di mettere in crisi il concetto stesso di soggetto e di persona esistono delle persone non umane oppure l'unica essere che può essere definito soggetto e quindi persona è l'essere umano stesso l'antropologia della musica che indaga ad esempio il concetto di musica stesso ovvero cosa possa essere definito musica e cosa sia invece un rumore l'antropologia delle famiglie che cerca di mettere in crisi anche in questo caso il concetto ad esempio di famiglia naturale con francesco remotti per dirne una l'antropologia economica che invece studia le varie forme che l'economia ha preso all'interno delle culture umane nella storia della nostra esistenza l'antropologia politica che studia le varie forme anche in questo caso che la politica ha preso invece all'interno delle culture umane infine per chiudere questa questo breve elenco l'antropologia dell'infanzia che studia il concetto stesso di infanzia cosa voglia dire essere infante cosa sia l'adolescenza che statuto abbia l'infanzia all'interno delle culture analizzate e che cosa sia un bambino bambino è un oggetto oppure un soggetto anche lui all'interno della ricerca che l'antropologo sta svolgendo l'antropologo quindi studia l'essere umano nella sua dimensione sociale e comunitaria recandosi sul campo cerca di allontanarsi dai propri schemi culturali per indagare ed interrogare la cultura del posto lasciandola raccontarsi in ogni sua forma questo per riportare come vivono e si organizzano socialmente gli esseri umani in altre parti del mondo l'antropologo in sintesi cerca di ridare valore e dignità a quei gruppi sociali che negli anni erano stati catalogati come inferiori per questo dominabili e spesso dominati un esempio su tutti è la storia delle colonie e il periodo colonialista dell'europa e dell'occidente stesso perché è importante l'antropologia oggi potremmo dividere questo tema in tre punti essa serve a tenerci a mente che non esistono culture superiori o inferiori ma che ogni cultura ha una propria storia e costituisce una prospettiva sul mondo per questo parimenti degna di nota e di dignità l'antropologia soprattutto ci ricorda che non siamo unici non esistono culture uniche ma quella dell'unicità è un'illusione spesso di natura politica ci aiuta infine a ricordare che allo stesso modo non esistono culture omogenee oppure ogni cultura è il frutto di incontri e scontri spesso violenti in ultima analisi l'antropologia ci invita a sospendere il giudizio obbligandoci a decostruire le nostre categorie e certezze per ripensare il nostro modo di essere umani